Ragazzi ma che serata ma che serata dopo la vittoria del Napoli la sconfitta dell'Atalanta Godo per Gasperini perché come voi ben sapete l'Atalanta è forte come squadra detto quanto Però Gasperini io non lo sopporto da sempre mi fa un'antipatia a pelle Gasperini Lo trovo uno presuntuoso arrogante e a volte si pensa di essere Guardiola il nuovo club Il primo guardiola è un po' troppo presuntuoso e a volte devi un po' abbassare lo trovo troppo presuntuoso E poi lo trovo anche un po' razzismo non lo so mi ha sempre fatto una questione che lo vedo molto preso tutto nord Parlava sempre male del sud un po' razzista lo è e poi mi sta giuglione ecco detto proprio a pelle E quindi ha perso per 2-1 in casa sua al Gaywist Stadium in casa sua davanti a tanti tifosi stadi quasi pieno Ha perso per 2-1 grande Fiorentina e grande Italiano Vincenzo Italiano che merito suo perché la Fiorentina gioca bene Merito suo perché è un allenatore contro coiore perché ho sempre detto Quest'anno quando ho fatto la classifica la mia classifica finale Avevo messo la Fiorentina in Europa League perché ho messo la Fiorentina in Europa League Perché penso che con Vincenzo Italiano e con la conferma di Vlaovic che ha firmato una doppietta su due rigori Perché c'erano entrambi per me quindi due golle non perché sono di parte ma c'erano entrambi Il primo un po' c'era però potete avere qualche dubbio il secondo netto Però sinceramente anche il primo secondo me era netto E due rigori il terzo rigore è ben segnato dall'Atalanta il gol che ha segnato Zavata Quindi 2-1-3 rigori in pratica i penalty Sinceramente ho messo la Fiorentina in Europa League perché io credo che un po' come l'italiano E la conferma di Vlaovic che è un giocatore forte e giovane e 21 anni veramente ragazzi Ha un margine di miramento strepitoso e l'ho detto con domani Se se ne andrà dalla Fiorentina perché io penso di sì perché poi arrivarranno i big europei che lo vorranno E lì non puoi tenerlo E che comunque la Fiorentina è pur sempre una piazza dove non è che ti dicono vinci la Champions Vinci lo scudetto vinci qua Per loro andare in Europa già è tanto Quindi di conseguenza se ne potrà andare Però detto questo non voglio deprimere i difusi della Fiorentina dopo questa vittoria Ma ragazzi io ho detto che secondo me se confermavano Vlaovic e non lo vendivano E prendivano i vincenzi italiano A posto di quelle pippe che hanno avuto Quei brutti allenatori che hanno avuto la Fiorentina negli scorsi anni Che per cari di Dio non è che uno vuole sputare i suoi Però non erano giusti Quando ho visto che Vincenzi italiano andrà alla Fiorentina Secondo me giocherà bene la Fiorentina E potrà andare in Europa League Non credo in Champions Perché sono solo quattro posti Mettici quella, mettici quella, mettici quell'altra È difficile entrare nei primi quattro posti Molto difficile Non c'è di riuscire il Napoli Nonostante per un pelo perché comunque è un po' difficile L'anno scorso Quindi secondo me però in Europa League gioia una grande cosa Per la Fiorentina che non ci fa da molto tempo Gioia qualcosa andare in Europa Vuol dire che i vincenzi italiani hanno già fatto meglio degli altri Poi Vlaovic è molto forte Ripeto Potrà fare la doppietta Ma a parte i riguri Ma è un giocatore che fa tantissimo davanti Ha un gioiellino in casa E un domani ci può stare Che cercherà aumenti E poi ovviamente se ne vorranno andare Però se lo devono godere Un'Atalanta che non faceva Il primo tempo soprattutto Un'Atalanta che non giocava Ma brutto partire così E non faceva pochi tiri in porta da mamita Non lo so Che cos'è Io sono convinta che l'Atalanta Io ho detto che secondo me Avevo messo che secondo me L'Atalanta quest'anno In Champions non ci va Ma ci va in Europa League Non lo so Io ho questo impressione Poi il campionato è lunghissimo Siamo pochissimi partite Tre partite è troppo poco per giudicare Ma io quando ho messo la mia classifica finale Ho messo l'Atalanta in Europa League Per il semplice fatto che Io avevo messo Juve, Napoli, Roma E Juve, Napoli, Roma Non mi ricordo chi avevo messo comunque Perché ho l'impressione che Non lo so Vediamo Perché ci può stare Perché L'Atalanta ha speso sul mercato Perché ha speso Però ci può stare un anno che È un po' di appannamento E la Fiorentina ripeto Quest'anno è tosta da affrontare Chi beccare la Fiorentina Perché è una squadra che gioca bene Anche contro la Roma Ha perso Però non ha giocato male E infatti io le ho dissi Nonostante la Fiorentina ha perso Con la Roma Secondo me La Fiorentina è una squadra Forte Non fortissima Perché comunque ha tanti limiti Ma è forte Quindi complimenti alla Fiorentina Italiano Grande Fiorentina Grande Gasperini I love you Gasperini Grande Atalanta Grande Bergamo Tutti buoni I love you Si sa che io non ho tanta simpatia Per l'Atalanta squadra Per i difusi Non tutti ovviamente Ma la parte E non ho simpatia per Gasperini Quindi sono contenta Mi dispiace per i miei amici Miei tifosi dell'Atalanta Che saluto Perché sono anche tanti amici E tanti tifosi dell'Atalanta puliti Ma io Gasperini Ce l'ho qui Quindi goodbye Che bella giornata Che bella serata Non ricordo una serata così di calcio Del tempo che non ha perso la Juve Ha perso oggi Ops Culeba lì KK Godo ancora Vabbè ragazzi Una cosa infinita Forza Napoli sempre Grande l'Atalanta Complimenti Keon ha procurato il rigore Mi è dispiaciuto Però grande Keon Che è piacere per lui Con la Fiorentina Nonostante abbia procurato il rigore Contro Quindi non un partitone Però per il resto Ripeto Annullato il gol Il VAR ha annullato Un gol dell'Atalanta Ovviamente Giustamente il VAR Serve a questo Correggere Perché era un fuori gioco Zapata Ripeto L'Atalanta ha speso sul mercato Però secondo me Un po' la perdita di Ado Gomez Anche l'anno scorso Un po' alcune cose Come se avesse perso un po' di fuso Però secondo me L'Atalanta farà comunque Un grande campionato Si riprenderà purtroppo Però Per ora va bene così Per ora va bene così Dopo il pareggio Che ho avuto a Bologna Pareggio